Minori, anziani e disabili sono queste le categorie fragili d'Abruzzo che beneficeranno della proposta di legge del vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, una norma che va ad agire sui servizi e sulle strutture socioassistenziali della regione, ridefinendo i parametri delle autorizzazioni e degli accreditamenti per garantire qualità, efficienza ed eliminare i potenziali sistemi corruttivi. La legge vigente, obsoleta, è di 16 anni fa, del 2005, non ha mai prodotto il regolamento attuativo, quindi voi immaginate, la regione Abruzzo ha lasciato nel caos tutte le strutture esistenti, ognuno ha fatto quello che voleva, senza un regolamento attuativo, quindi la nostra proposta di legge parte anche da un'altra criticità, che la legge vigente presenta carenze, mancano requisiti organizzativi, strutturali, di personale, manca addirittura un'anagrafe unica di tutte le strutture in regione Abruzzo, non è mai stato fatto un censimento, quindi non sappiamo quante strutture ci sono ed è gravissimo e ci sono ancora competenze in capo alle province che non ci devono essere più, che non devono essere abolite. La nostra legge appunto prevede dei requisiti stringenti, che ogni struttura deve insistere in aree che permettono la vita sociale, le attività collettive dei propri ospiti, deve prevedere degli operatori sanitari, sociali, educativi, qualificati, con titoli di studio adeguati, un responsabile, un coordinatore della struttura. Addirittura la novità, vogliamo che per ogni ospite di queste strutture vi siano dei piani educativi individuali e dei piani assistenziali individuali per veramente recuperare e guarire gli ospiti. Non vogliamo più che ci siano strutture che servono solo per prendere soldi pubblici, le strutture devono recuperare gli ospiti. Ecco, questa è la nostra proposta, prevede altresì che entro 120 giorni la regione deve emanare un regolamento e nei successivi 60 giorni la giunta deve emanare una direttiva che stabilisca le modalità per autorizzarsi ed accreditarsi. E poi abbiamo messo un servizio di vigilanza forte, importante, che possa vigilare i suoi requisiti. Chi perde i requisiti deve andare a casa, non può essere più autorizzato e accreditato dalla regione Abruzzo. Un settore dove ci sono molti interessi perché girano decine e decine, se non centinaia di milioni di euro, perché chi si autorizza, convenziona, questi sono soldi che vanno a queste strutture. Allora, per la prima volta noi vogliamo che le strutture salvino veramente, curino veramente, recuperano veramente la fragilità della nostra regione e non stiano lì solamente per prendere soldi pubblici. Ringraziamento a chi ha operato con la schiena dritta a testa alta, ma ci sono alcune che naturalmente hanno avuto anche seri problemi.